ciao a tutti ciao testa grigia italia noi veniamo della svizzera con le pelli di foca abbiamo passato il confine noi siamo usciti noi usciamo tutti i giorni qui è tutto chiuso dall 11 marzo e non si sa perché devono spiegare perché hanno chiuso tutto rifugi di montagna chiusi vietato andare in montagna chiuso perché perché grandi noi siamo qua laggi c'è Cervinia Cervinia in Val d'Aosta tutto chiuso io vado fuori lui anche va fuori perché noi noi siamo persone libere 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 e pensiamo con il nostro cervello quello che molti non fanno molti non fanno se no non saremmo arrivati a questo punto da Cervinia non viene nessuno con le pelli di foca hanno mandato l'elicottero l'altro giorno a prendere uno con le pelli di foca ma vi rendete conto possono venire qui e ammazzarmi qui loro che mi ammazzino qui io preferisco morire libero che non morire come una pecora una pecora chiusa in casa zitta 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 libertà libertà aprire tutto perché hanno chiuso le scuole ancora scuole chiuse si ritrovano i bambini a casa davanti alla tv a vedere quelle merda di telegiornale a giocare con i telefonini vi entreranno ancora più stupidi libertà perché perché libertà libertà libertà